Ciao ragazzi, benvenuti ad ancora un nuovissimo video di Brazzocube E oggi siamo ritornati con una parata challenge! Bene ragazzi, siamo qui per annunciarvi una cosa importantissima Una cosa che abbiamo detto nei social, abbiamo detto marzo Che cos'è marzo? Hashtag marzo E' un mese E' un mese Succederà qualcosa di veramente importante che uscirà Spam bam 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 Tatatà Tatatà Così non devi editare, facciamo dire attenzione ai miei suoi Aspetta va, facci vedere la musica Quindi ragazzi uscirà il nostro libro Come diventare ricchi con YouTube Eeeeeee Mamma mia Guarda Stormy quanto è ricco c'ha due palle Due palle non una Questo libro ragazzi è un manuale, non è una solita biografia Questo va te Questo libro ragazzi è un manuale scritto veramente da noi Infatti doveva uscire tipo l'anno scorso questo libro E' uscito adesso perchè ci abbiamo messo una vita E' uscito adesso perchè ci abbiamo chiusa una vita E abbiamo chiusa chiave Ognuno di noi ha trattato un argomento perchè questo è un manuale non è una biografia Questo l'ho detto no? Non l'ho detto no raga non c'eravamo niente da raccontare, a parte Brazio vi poteva raccontare storie un po' torbide ma noi abbiamo deciso di insegnarvi qualcosa su youtube quindi dal 14 marzo in tutte le librerie e con questa cosa ci darà la possibilità di ricominciare il Noi da Voi ovviamente il libro lo trovate anche online e quindi faremo la parata challenge chi segnerà di meno perde chiaramente lo vedi chi segnerà più in chi segnerà di più vincerà la patata al sugo oooooh aspetta! che cos'è? posso? posso? attenzione! quanti mi piacciono? 40.050 80.000 mi piace facciamo un video in cui brazo dovrà mangiare 5 kg di patata al sugo siiii No, 2 kg così 5 kg è tanto 2 kg patate al sugo 80 mili piace Quindi vabbè ragazzi iniziamo 80 mila like 2 kg di patate D'accordo Al sugo Al sugo Iniziamo Ciao ragazzi, sono Stormy e Abrazzo non mi fa paura Tiro del camionista Bello! Abrazzo! Mi ha spiazzato, pezzo del fame Spirak, Shusha Mike Shusha è il leggendario baby E' un giro E' un giro Te l'ha ammesso Allora Hai fatto lo stesso tiro di Stormy Ha fatto il passo in avanti Che passo in avanti? Eh regia Si si Ciao ragazzi E basta questo Hai paura eh fratino Solitamente Nooo Centrale 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 Allora Con me ha fatto il passo in avanti Si è spostato In realtà non volevo tirare la centrale Per un'altra 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 E come al solito deve arrivare Spawn ad aggiustare i danni che ha fatto al new channel Non sa manco come si chiama il tuo E come al solito arriva Spawn a mettere a posto i danni che Camper combina Dai No il cookie io non lo faccio Mamma mia Ma io guardavo di là, non mi guardavo negli occhi Non mi guardavo la palla Non mi guardo negli occhi ma lo tiro Oh ma da sottavicroci Ma sempre là tiri Due su due Però regà non vale perché stormi se mi metto a far zig zag mezzo Io so tirarli Non importa se segnerò o no Mettete sti cazzo dei miacchi Sempre la stessa parte 2-2 L'ammazzo! Crossbar Challenge completata Cattiveria adesso Chi è che doveva portare avanti la riputazione degli iNube? Sei prontentami la vai Eeeh la pagnottella Tre ragazzi, mistero tre su tre Se fa tre su tre ha vinto? MUTO! 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 2-2 Solo chiacchiere brazzo, solo chiacchiere 80.000 mi piace Steroidi! Tanto sugo su quelle vadate, mi raccomando eh Tanto muo fa il passetto in avanti, guardatelo eh Reina, Liverpool, Milan MUTO! 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 Sotto la mano! Mamma mia, abbraccio! Aspetta, ora, ma da che sta la vadate al sugo? Sotto la mano! E' stato... Una volta ho segnato! Non è vero Ah ma ma Erin è un cane con la Meusogli the ho tirato! Il tiro dalla man Sept蓮 Tiro di potenza! Alla seconda, alla terza Per la potenza E invece non ha tirato di potenza Ma è schifo Giovanni Faceva tennis, è scusato 4 su 4, 80 mila vai Ma di che cosa stiamo parlando Come di sinistro 8 mila mi piace Questa è una bella Ragazzi non so che fare La goal challenge ragazzi Cambiamo il titolo al 2 Ma se ne tirate centrali È normale che le pare ragazzi Io spero che si butti capito Però non se butta sto portiere Questo è il momentum È il 45esimo Non si può sbagliare Vai Vai ragazzi Il team è jumpy Il collo deve fare dai Jumpy 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 Di potenza Jumpy Jumpy Vivo Pietro Hai vinto la parata challenge C'ha pure la pancera Guarda là Ma la pancera ti ha sfumato Di sinistro Ma quanti cazzo ti prendi Questa la lasci Chi ha vinto questa challenge Io la faccio mai L'unico che sa Dabbare bene In questa crew Vabbè comunque ragazzi Ha vinto Storni Tu stai tutti bravi però Tu stai molto molto bravi Io diciamo che sono un po' fuori forma Con un po' di panza A parte E pensa quanto sarai fuori forma Dopo due chili di patata al sugo Due chili Ma perché mai che hai questa idea Oh raga È la parata challenge È la patata al sugo Giusto Ottanta me mi piace Ottanta me mi piace Due chili di patata al sugo Si passa da parata challenge A parata challenge A parata challenge A parata challenge Quindi ragazzi Ricordatevi 14 marzo In tutte le librerie d'Italia E online 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 Quindi ci vediamo con il noi da voi Dal 14 marzo in poi Questa è la settimana illuminata Quindi passate in tutti i canali Perché per tutta la settimana Uscirà un video di calcio Ringrazio Sport City Trigoria Per averci ospitato Io vi saluto Vi ringrazio Vi do un grande Grandissimo abbraccio E al prossimo video Ciao Illuminati Club